Euro Regione News Il Natale ufficiale, 8 dicembre A Codroipo la nostra tradizione è stata rispettata grazie alla città di Bleiburg in Carinzia, Austria con cui c'è un legame d'amicizia che va oltre il gemellaggio Abbiamo avuto la cerimonia di accensione dell'albero in piazza Garibaldi una bete rosso enorme, quasi quanto il palazzo municipale Il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti è il burgemeister von Bleiburg, Stefan Johann Wieshochnig davanti a una folla festosa per l'accensione dell'albero Un ringraziamento alla città di Bleiburg per il bellissimo abete che ha donato quest'anno alla città di Codroipo simbolo dell'amicizia e dell'unione fantastica che c'è tra la nostra comunità, quella di Bleiburg e per esteso di tutta la carinzia e degli amici dell'Austria Grazie mille per la magnifica ospitalità qui a Codroipo e siamo molto contenti di aver fatto dono di questo abete che simboleggia anche la nostra amicizia oltre che naturalmente il Natale dal Medio Friuli per Euroregioni News Marco Mascioli Euroregioni News